buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video allora ho delle novità molto importanti per voi che stavate aspettando queste novità rappresentano dal nuovo decreto approvato dal presidente del consiglio ovvero decreto riapertura questo decreto riapertura che rappresenta la fase centrale della fase 2 che stiamo vivendo entrerà in vigore dal 18 maggio in poi quindi ancora un paio di giorni sostanzialmente e le novità che sono contenute in questo decreto sono le seguenti la prima è che a partire da lunedì 18 maggio ci sarà il via libera agli spostamenti all'interno della propria regione senza limitazioni quindi potrete uscire di casa andare in qualsiasi città della vostra regione senza esibire l'autocertificazione sostanzialmente però questo vale soltanto solo nella propria regione quindi che ne so se abitate nella regione lazio potrete andare in tutte le province della regione lazio roma frosinone o in altre città latina ostia fregene queste città qua sostanzialmente di conseguenza fino al 2 giugno altra novità sono vietati gli spostamenti fuori regione se non per motivi diciamo che sono ancora attualmente in vigore quindi lavoro oppure motivi di salute o altri o altri motivi che sono comunque giustificati da un'autocertificazione o un'autorizzazione speciale sostanzialmente quindi per i motivi attualmente in vigore poi a partire dal 3 giugno saranno consentiti invece gli spostamenti anche fuori regione ad esclusione nelle zone dove ci stanno ancora forti rischi diciamo di epidemia sostanzialmente quindi questa limitazione di spostarsi in maniera libera e autonoma nelle altre regioni durerà in base a questo nuovo decreto dal 18 maggio fino al 3 giugno sostanzialmente poi a partire dal 3 giugno oltre alla completa libera circolazione tra le regioni ci sarà diciamo ci sarà la riapertura delle frontiere quindi diciamo le frontiere di nuovo aperte sostanzialmente quindi si potrà entrare in italia da paesi appartenenti dall'unione europea e dall'area shengel e senza sottoporsi diciamo ad isolamento preventivo di 14 giorni sostanzialmente quindi sostanzialmente queste sono le novità principali di conseguenza da lunedì 18 maggio potrete dire addio al modulo di autocertificazione se dovete uscire di casa a spostarvi all'interno della propria regione una cosa molto importante sarà consentito fare e fare visita agli amici che poi vi spiegherò più in là bene cosa significa tutto questo perché ci sono alcuni diciamo tabù e domande che mi hanno fatto che non hanno trovato risposta ci sarà la riapertura anche di centri commerciali saranno riaperte le attività che finora erano rimaste chiuse come ad esempio barbieri parrucchieri centri sedici e bar e ristoranti che in questo periodo sono rimasti chiusi anche per organizzarsi meglio per affrontare meglio appunto questa seconda fase e ci sarà anche la riapertura di palestre e musei ovviamente bisogna comunque sottolineare che restano comunque in ogni caso vietati gli assembramenti fuori e sono diciamo sono sono state attivate delle sanzioni severe per diciamo per chi viola appunto quanto stabilito in questo decreto che la sanzione parte da 400 fino a 3000 euro di multa oltre che la sospensione di attività commerciali e produttiva ovviamente queste sono le principali novità per quanto riguarda il diciamo la parte appunto di andare a trovare gli amici sostanzialmente cosa significa questa cosa che a partire dal 18 maggio si potrà andare ad esempio andare a trovare un amico ci si potrà vedere fuori per andare a fare colazione insieme si potrà andare diciamo a trovare un amico si potrà anche andare a andare a casa a trovare un proprio amico purché ovviamente questo amico abiti all'interno della propria regione ovviamente quindi diciamo dal lunedì 18 maggio si potrà andare si potrà andare a casa degli amici sostanzialmente l'unica cosa ovviamente non saranno consentite feste e parti sostanzialmente quindi qui bisogna diciamo questa è una parte un po' delicata dove dove non arriva la legge o la regola ci sta comunque il buon senso perché perché giustamente se dal 18 maggio non c'è più l'autocertificazione per spostarsi è abbastanza è ovvio che dalla parte dall'altra parte si potrà sia andare a trovare l'amico ma ci sono comunque sempre si potrà andare a casa degli amici a far visita agli amici dopo due mesi ovviamente ma ovviamente bisognerà comunque avere del buon senso quindi rispettare le dovute precauzioni comunque quindi sempre un metodo di distanza mascherine guanti disinfettanti eccetera nel decreto il decreto comunque in questo nuovo decreto è ancora stabilito che sono vietati gli assembramenti fuori che dentro quindi non si potranno fare feste e parti a casa degli amici ovviamente si potrà andare a trovare a casa degli amici tutto quanto però rispettando sempre comunque i parametri dovute diciamo alle precauzioni stabilite quindi un metro di distanza eccetera tutto quanto ovviamente quindi diciamo oltre alla regola ci sta anche il buon senso sostanzialmente quindi voi si potrete andare a trovare gli amici ma dovrete comunque rispettare le precauzioni mascherine guanti e gel sostanzialmente e ovviamente tutto quello che c'è ora in vigore quindi che ne so quando andate nei negozi ad esempio a fare la spesa bisogna sempre rispettare le precauzioni stabilite che sono stabilite tuttora quindi l'obbligo dell'uso delle mascherine qualsiasi mascherina sostanzialmente l'uso della mascherina ovviamente l'uso dei guanti soprattutto nei supermercati come anche nei trasporti pubblici tutto quanto e ovviamente portatevi sempre in tasca questo qua il disinfettante per disinfettarvi le mani anche se comunque sono presenti i disinfettanti già già direttamente all'interno dei supermercati sostanzialmente si potrà ovviamente andare a fare attività fisica fuori tutto quanto quando si esce fuori di casa stare ad almeno un metro di distanza dalle persone due metri invece se fate attività fisica insieme tutto quanto riapriranno le palestre se non sbaglio le palestre a partire dal 25 dunque vediamo un po' le palestre se non sbaglio dal 25 maggio in poi comunque vi lascerò anche il testo del decreto in pdf tutto quanto e ovviamente ci sono una serie di regolamenti e parametri su come funzioneranno bar ristoranti e palestre che vi lascerò nel link in descrizione sostanzialmente queste erano le novità principali contenute in questo decreto qua sostanzialmente con questo particolare se sul fatto se andare a trovare gli amici o meno perché un sacco di gente mi ha scritto vi chiedo scusa ragazzi se non se sono stato assente ma ho avuto un sacco di impegni lavorativi in questi giorni niente vi lascerò comunque in descrizione sia il video diciamo del test del covid che un sacco di gente si sta andando a fare il test sierologico per sapere se è positivo o meno al covid e anche il video vi lascio anche il video in descrizione per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare per quando uscirete di casa anche se ci sarà la piena libertà di circolazione nella propria regione questo non significa che ovviamente siete completamente esenti dalle dovute precauzioni ovviamente tutto quanto quindi ragazzi vi lascio i link inerenti su sul test sierologico e su quali strumenti adottare tutti i consigli tutto quanto per comunque rispettare i parametri e per evitare diciamo di correre rischi sui nuovi contagi e vi lascerò anche i link descrizione su bar ristoranti palestre eccetera su come funzionerà diciamo come funzioneranno sostanzialmente e vi lascerò il test anche del pdf devo dire comunque che ho letto in questi giorni seppure in maniera molto veloce i dati per quanto riguarda sui contagi e devo dire che sono molto molto più soddisfatto sostanzialmente il numero dei contagi da diversi giorni è molto inferiore numericamente inferiore rispetto al numero dei guariti sostanzialmente in base agli ultimi dati adesso vi dico subito in base agli ultimi dati che poi tra un po dovrebbe uscire quello delle sei allora coronavirus allora secondo gli ultimi dati statistici allora aggiornamento sul coronavirus ve lo dico subito scusate un secondo ok allora secondo i dati adesso diciamo in italia le persone positive sono circa 72 mila io mi ricordo che stavamo tra fine aprile prima di maggio a oltre 100 mila siamo già a 30 mila in meno e ci sono oltre 120 mila guariti sfortunatamente purtroppo abbiamo avuto anche un sacco di morti oltre 30 mila morti però comunque in base ad esempio gli ultimi dati diciamo secondo gli ultimi dati di ieri abbiamo avuto complessivamente quasi 5 mila guariti e meno di 800 contagi 789 per la precisione di cui di questi dati qua possiamo dire che 60 mila dei 72 mila diciamo attualmente positivi 60 mila si trovano in isolamento domiciliare mentre solo 10 mila si ritrovano ricoverati con sintomi e 808 sono in terapia intensiva quindi gli ospedali si sono sostanzialmente svuotati mi ricordo che eravamo arrivati in oltre 1500 1600 se non di più in terapia intensiva e oltre 15 o 16 mila ricoverati con sintomi invece adesso stiamo già sotto quasi sotto 10 mila e meno di mille meno di mille in terapia intensiva quindi diciamo la situazione sta notevolmente migliorando ovviamente non è abbastanza dobbiamo fare di meglio dobbiamo collaborare ancora di più dobbiamo cercare di sconfiggere questo virus cercare di limitare i più danni possibili e cercare di guardare in avanti sostanzialmente questo è il quanto ragazzi questo è per quanto riguarda le novità vi lascerò anche il link ovviamente dei dati statistici quelli del ministero del ministero della sanità che è l'unico diciamo che è l'unico sito affidabile mentre altri siti di giornali cazzi e mazzi sparano altre cipe completamente diverse oltre che completamente sbagliate tutto quanto quando volete sapere dati sul covid quanti positivi quanti quanti guariti quanti deceduti tutto quanto andate solo ed esclusivamente al sito del ministero della salute nessun altro sito poi se volete sapere informazioni se volete fare il test il test del covid e tutto quanto vi lascio il link che io l'ho fatto quindi vi spiego come funziona se volete sapere informazioni su guanti strumenti di prevenzione di contagio tutto quanto vi lascerò anche il link in descrizione tutto quanto spero che questo video vi sia piaciuto condividetelo in tutti i social network facebook telegram whatsapp eccetera iscrivetevi al canale cliccate la campanella per rimanere aggiornati io io lunedì dovrebbero riaprire i parrucchieri e mi taglierò i capelli perché non so più come sistemarli sti capelli che mi faccio schifo solo a guardarmi sostanzialmente mi faccio veramente schifo solo a guardarmi con sta pettinatura non so più come sistemare i capelli ragazzi non so che devo fare meno male che lunedì riaprono i parrucchieri così io do una bella sistemata tutto quanto bene con questo è tutto noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi